L'annuncio è quello dell'apertura della campagna elettorale di Forza Italia. Domani grande evento pubblico nel corso del quale si parlerà del futuro. Ma una nota a inizio conferenza il presidente di consiglio Pagano la vuole fare. Il PDL si è sciolto. Dal Popolo delle Libertà sono nate due nuove costole, una è il centrodestra. Per far capire la nuova faccia del partito abbiamo voluto cambiare la nostra sede. Oggi infatti Forza Italia si trova nel cuore di Pescara, Piazza Salotto, dall'alto di uno dei palazzi che circondano la piazza bene della città. Domani noi faremo una manifestazione alle ore 18 al Cinema Massimo che è rivolta a tutti i sostenitori di Forza Italia per di fatto aprire un periodo che ci porterà alla campagna elettorale e quindi al voto del 25 maggio. Riteniamo che nel più breve tempo possibile si debbanna anche annunciare la candidatura di Gianni Chiodi a presidente della regione in modo ufficiale. Si è parlato di coalizione, si è parlato di bisogno di allinearsi alle volontà della maggioranza e questo è rivolto alla candidatura non ufficiale di testa. Ma specifica poi che domani alla presentazione ufficiale saranno presenti tutti i membri di coalizione. Tutte le formazioni politiche che compongono la coalizione centrodestra hanno sempre e comunque affermato che Gianni Chiodi è il candidato per tutti e anche per loro. Infine una dichiarazione sulle primarie del centrosinistra alla regione. Dice Pagano, primari inutili, il PD ha presentato un solo candidato, cosa c'era da votare? E allora gli riportiamo una notizia calda di stampa. Il quotidiano La Repubblica pubblica oggi un articolo che spiega che Matteo Renzi ora si trova in difficoltà per il caso D'Alfonso perché da un lato si trova con un processo ancora in corso che in appello potrebbe anche finire senza soluzione e secondo la carta di Pisa sottoscritta dal PD non sarebbe potuto essere presentato alle elezioni. La Repubblica svela anche che secondo un anonimo del PD la scelta è stata obbligata per non regalare voti al centrodestra. Erano sicuri della sua vittoria grazie a dei sondaggi segreti avvenuti in regione Abruzzo. Nazario Pagano oggi come commenta i risultati di Luciano D'Alfonso e le polemiche endogene? Sono problemi interni al PD. Certo sto registrando con attenzione il fatto che molti giornali di livello nazionale si stanno occupando di un tema che evidentemente ritengono spinoso per il centrosinistra. Poi delle loro regole onestamente ne so poco, personalmente ritengo che certo qualche problema c'è anche perché queste notizie non vengono pubblicate da quotidiani che hanno un orientamento verso il centrodestra.